Riciclavano e commerciavano abusivamente oreo in Italia e in Europa. Per questo la Guardia di Finanza di Bologna ha eseguito 10 ordinanze di custodia cautelare, 7 in carcere e 3 agli arresti domiciliari e numerose perquisizioni tra la Toscana, l'Emilia Romagna, l'Abruzzo e la Basilicata. L'inchiesta delle Fiamme Gialle, denominata Pietra Filosofale, ha toccato anche l'Aretino. In manette sono finiti 4 imprenditori del settore orafo. Si tratta dei titolari della ditta Castoro di Castiglion Fibocchi, accusati di associazione a delinquere, riciclaggio di proventi illeciti e ricettazione con l'aggravante del reato transnazionale. Capobanda dell'organizzazione sarebbe un cinquantenne turco che viaggiava per l'Europa con l'oro nel trolley per ripulire così denaro sporco proveniente da imprenditori cinesi della moda a Prato. L'uomo faceva scalo per lo più all'aeroporto Marconi di Bologna. Una volta arrivato poi in Toscana raccoglieva il denaro per acquistare oro dagli imprenditori aretini compiacenti secondo gli inquirenti. I lingotti a questo punto venivano trasferiti all'estero nascosti nella stiva degli aerei di linea. L'oro veniva infine rivenduto nei mercati ufficiali attraverso una complessa trama di bonifici estero su estero. L'indagine della Guardia di Finanza di Bologna era partita nel 2015 da una segnalazione arrivata dalla Turchia quando a Istanbul era appena atterrato il cinquantenne trovato in possesso di vari lingotti d'oro. I finanziari in tutta hanno sequestrato 70 chili d'oro di un valore di 2,5 milioni di euro, un milione e mezzo di euro in contanti ed un sequesto preventivo pari a 7,4 milioni di euro tra beni e disponibilità finanziarie degli indagati e delle società. Sono inoltre in fase di esecuzione quattro mandati di arresto europei in Romania e Turchia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'organizzazione criminale sarebbe composta da 29 soggetti di diverse nazionalità, italiani, turchi, cinesi ed infine romeni.